Ciao! Guardate che meravigliose immagini dall'elicottero! Manca pochissimo, manca veramente poco al Festival Bar! Anche l'Etna incandescente come il pubblico qui del teatro antico! Meravigliosa! Allora prepariamoci! Io vado la batteria! Si che fai? Si che fai? Allora io canto! Aspetta aspetta! Oh vita! Oh vita mia! Oh il core! E chi stu core! Tra pochissimo Festival Bar 2001 da Tormina! Stiamo arrivando! Si 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 si! Corri me l'ultimo, sarai per me! Poi vita! Che novità! Che bello è! Il nuovo tubo! Tubo unico! C'è il vera maionese! È per me! Gusto fresco di calde! Ho preparato giusto uno spuntino! Il nuovo tubo c'è! Ma che l'è? Un nuovo look! Bello eh! Nuovo tubo Calvè! Una novità fresca fresca! Alcuni deodoranti stick mi lasciavano tracce sui vestiti. Poi ho scoperto deodorante neutro Roberts. A differenza di alcuni deodoranti che macchiano i vestiti, Deodorante neutro Roberts non lascia tracce. E si vede! Deodorante neutro Roberts. Efficace a lungo, sicuro sulla pelle. Ma chi è che suona stasera? Il lunabo! Ma dai veramente! Il lunabo! A me piace tanto Vorrei! E come fa? Allora fa... Vorrei, vorrei, esaudire tutti i sogni tuoi. Vorrei, vorrei, cancellare ciò che tu non vuoi. Fermi così! Scatta e manda via email con il telefonino le foto che vuoi tu. Solo con la nuova Communicam. Solo da Tim. Mi metto in mezzo il tiro! Ci sono cose infrangibili, come l'amicizia. E la nuova bottiglia di Dre. Nuova bottiglia infrangibile. Solo con il concorso Emozioni Vincenti puoi vincere subito il viaggio dei tuoi sogni. Videocamere Canon, cellulari Nokia e a estrazione una Porsche Boxer S. Emozioni così, solo con i P. Da Borotalco? Alto là allo stress! Bagno schiuma Borotalco con il suo profumo di Borotalco. Bagnoschiuma Borotalco. Alto là allo stress! È uscita Hot Party! Hot Party! La compilation per la tua estate dance! Tutto il giorno in piedi, gambe pesanti, c'è Essa Venge. E' un medicinale, leggere attentamente il foglio illustrativo. Solero Ice, fuori ghiaccio con succo di limone. Dentro, fragole. Solero Ice, l'effetto più caldo che non aspettabili. Freschezza e protezione. Trovale insieme. Chilli Be Active, i deodoranti per il corpo a doppia azione. Per il tuo completo benessere. Prurito tra i capelli, scopri Claire Daily Relax, antiforfora alle proteine del latte e il suo effetto calmante. Tesoro, sono io! Sono in bagno! Nuovo Claire Daily Relax, l'antistress per la tua testa. Festival Bar è presentato da... Nuovo Acerosso e solo Dirty Blue. Mi piace rosso. You don't have to say you love me Cornetto Acida, it's a love thing. Oh, 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 mi piace molto. Oh, oh,kat! Omnit del Vodafone. 3, 2, 4 3, 2, 1 da!